Salve amici dell'Advanzitalia, in questo video andremo a vedere la prova certificazione di italiano come lingua stagnera, livello A2. Si tratta di una prova del dicembre 2012, in questa parte andremo a vedere solo l'analisi delle strutture di comunicazione, quindi la parte che dura circa 40 minuti, è divisa in tre parti. Nella prima parte avete questo esercizio dove dovete usare le forme giuste degli aggettivi che ci sono tra parentesi. Qui dovete scegliere il tempo dei verbi, il tempo giusto dei verbi per completare questo testo. Ed infine avete un altro testo che dovete compilare scegliendo una delle parole che vi vengono date, quindi una delle tre alternative. Cercheremo di svolgerlo insieme, vi darò anche qualche suggerimento, il compito non è difficile, però dovete cercare di ragionare e cercare di leggere tutta la frase prima di rispondere, perché a volte questo aiuta a capire meglio il contesto. Una vacanza diversa, gentile signora Rossi, siamo felice, quindi dobbiamo usare l'aggettivo felice, qui dobbiamo dire siamo felici, perché è al plurale noi siamo felici, io sono felice, noi siamo felici, della sua scelta di trascorrere le vacanze invernali, la vacanza invernale, le vacanze invernali al plurale. Nel nostro nuovo albergo, nuovo qui dobbiamo lasciarlo così com'è, perché è già la parola giusta. Per la sua vacanza possiamo offrire a lei e alla sua famiglia una grande camera, anche qui, la grande camera, le grandi camere, quindi la grande camera, con il terrazzo all'ultimo piano, anche qui dobbiamo lasciare la parola così com'è, negli ultimi piani, nell'ultimo piano. Dal terrazzo c'è un panorama fantastico, ci sono i panorami fantastici, un panorama fantastico al singolare, e quindi anche qui dobbiamo lasciare la parola così com'è. E quando c'è il sole si può riposare in comode poltrone, una comoda poltrona, in comode poltrone, e respirare l'aria pura delle montagne, perché l'aria è femminile. La mattina c'è una ricca colazione, anche qui femminile, la colazione, con tutti i prodotti tipici nel salone al piano terra. Prodotti, prodotto tipico, prodotti tipici, plurale. Famiglia Bruni. Nel secondo caso abbiamo i verbi. Completa il testo con le forme giuste dei verbi che sono tra parentesi. Devi scrivere le risposte nel foglio delle risposte. Fare shopping. Questa mattina ho telefonato alla mia amica Fabiola e le ho detto se viene a vedere un film al cinema. Quindi parliamo in entrambi i casi di passato prossimo, perché si tratta di un'azione compiuta, svolta e compiuta nel passato. Quindi ho telefonato e le ho detto. Abbiamo già finito. Quindi è un'azione che non continua né nel passato né nel futuro. Lei mi ha risposto che nel pomeriggio voleva andare al centro commerciale fuori città. Quindi nel momento in cui io ho parlato con lei, lei voleva andare al centro commerciale, quindi non era ancora andata. Qui non possiamo dire lei mi ha risposto che nel pomeriggio è voluta andare. No, non. Non in questo caso perché lei non era ancora andata. Quindi nel passato lei voleva andare al centro commerciale. Quindi non era ancora andata, però aveva in piano di svolgere questa attività. Un'attività che non sappiamo se si è svolta oppure no. Quindi non possiamo usare il passato remoto. Lei mi ha risposto che nel pomeriggio voleva andare al centro commerciale fuori città. Allora ho pensato di andare con lei così potevo comprarmi un cappotto nuovo per questo inverno. Anche io volevo fare un'azione al passato che non sappiamo se l'ho svolta oppure no. Quindi non posso nemmeno qui dire ho potuto comprarmi un cappotto. perché quando ho pensato di andare con lei, in questo momento, se fossi andato con lei, avrei potuto comprarmi un cappotto nuovo. Quindi potevo comprarmi un cappotto nuovo che non so se l'ho comprato oppure no. Quindi potevo. Alle 14 sono partito, attenzione qui si tratta di movimento, quindi non ho partito. Sono partito con la macchina della mia amica e sono arrivato al centro commerciale alle 15.30. Anche qui passato prossimo perché ero lì alle 15.30. È un'azione che si è svolta, quindi già fatto. Sono arrivato e subito ho bevuto un caffè al bar del centro commerciale. Quindi anche il caffè l'ho bevuto. Tutti e tre i verbi devono essere messi al passato prossimo perché sono tutte azioni compiute. Fabiola ha comprato una giacca di lana e io un cappotto verde scuro. La sera siamo tornate alle 7 stanche ma felici. Siamo tornate, non siamo tornati perché è plurale femminile. Si vede che sono due ragazze perché stanche e non stanchi. Adesso andiamo a vedere l'ultimo esercizio. Qui c'è questo testo e dovete scegliere tra A, B o C. Quindi è un esercizio a risposta multipla. Le parole sono qui. Per la quindicesima volta, domenica 11 novembre, si svolge la Corri la via Francigena. È una corsa che parte da Abbadia Isola alle ore 9.30 e arriva fino alle porte di Siena. Quindi la dimostrazione, manifestazione o vacanza? È una manifestazione. Dimostrazione solitamente è una specie di protesta. Vacanza nemmeno perché la vacanza non si svolge come un evento. È una manifestazione. Una manifestazione, quindi, che tipo di manifestazione? È una corsa che parte dalla Abbadia Isola alle 9.30 fino alle porte di Siena. Segue le dell'antica via Francigena. Cosa? Segue cosa? Segue le parti, le aperture, le strade. Segue le strade. Perché è una corsa. Si corre nelle strade. Quindi segue le strade dell'antica via Francigena. È possibile un itinerario di 15 km anche a piedi. È possibile visitare, fare o viaggiare. Fare. Fare un itinerario. Quindi percorrere questo itinerario di 15 km anche a piedi. All'arrivo c'è una per prendere qualcosa da mangiare o da bere. Quindi un posto dove si va a mangiare o bere. Bancarella, casa o stazione. Non si può andare a casa a prendere qualcosa da mangiare, a comprare qualcosa da mangiare o a bere. Perché la casa non è un negozio. Stazione. Stazione potrebbe avere senso, però c'è una stazione, non si suol dire. C'è la stazione. Non è che c'è una stazione ogni chilometro. La cosa che ha più senso qui è una bancarella. Le bancarelle sono quei posti piccoli dove si vendono panini o hamburger, eccetera. Quindi 4A. Bancarella per prendere qualcosa da mangiare e da bere. Inoltre è disponibile per tutti un D-autobus per ritornare. Quindi cosa un D-autobus? Un favore, un servizio o un aiuto? Un servizio ad autobus. L'autobus, il treno fa parte, treni e autobus fanno parte dei servizi pubblici. Quindi un servizio ad autobus per ritornare al di partenza. Per ritornare al segno, passo o punto di partenza. Per ritornare al punto di partenza, all'inizio. Si dice punto di partenza. Il di partecipazione è di 5 euro. Quindi parliamo di un prezzo, il conto, il costo e il numero. Allora, il costo è di 5 euro. Costa 5 euro. Dobbiamo pagare 5 euro per entrare. Il conto è quello che paghiamo al ristorante, solitamente. Quindi dopo che mangiamo varie cose, paghiamo il conto. Il numero no, questo senso non ha, in questo contesto non ha senso, perché come potete pagare un numero? L'ultimo punto. Tutte le persone che arrivano alle 12.30 ricevono un in ricordo della giornata. Quindi ricevono qualcosa come segno di ricordo, come ricordo, come souvenir della giornata. Quindi regalo, consiglio, saluto. Un regalo, un regalo che si terranno a casa, probabilmente un souvenir, come ricordo dell'evento. Un consiglio non può essere tenuto come ricordo di un evento, nemmeno un saluto. Quindi il regalo è qualcosa che ti porti con te. Queste sono le risposte dell'esercizio. Spero che il video vi sia piaciuto. Vi ringrazio della vostra attenzione. E ci risentiamo nei prossimi video. Ciao.